Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster E hai imparato due grandi cose della vita Non tradire gli amici E tieni sempre il becco giuso Un giorno un gruppo di ragazzi del quartiere portò la spesa a mia madre fino a casa E sapete perché? In segno di rispetto Ecco dove andiamo a finire, ti è piaciuto questo? Tu che cosa fai? Sono nell'edilizia Grazie a tutti Grazie a tutti